Ben ritrovati, benvenuti all'appuntamento con il nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca perché ci sono ulteriori sviluppi per quanto riguarda l'inchiesta del fallimento secondo la procura bancarotta fraudolenta della società di vigilanza legate all'ipervigile della famiglia De Santis. Questa volta, oltre al sequestro di un immobile al centro della città, ci sono altri ordini di custodia cautelare agli arresti domiciliari per i rappresentanti della famiglia De Santis. Questa volta l'accusa di bancarotta fraudolenta di una società di vigilanza di Avellino. Ipervigile, inchiesta infinita. Questa mattina gli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad un'ulteriore ordinanza di arresti domiciliari a carico di Fernando De Santis, Filomena Vicidomini e Filomena Paolino per aver provocato, secondo la procura di Nocera, la bancarotta fraudolenta della società di vigilanza L'Astuto di Avellino, azienda che fa parte della galassia riconducibile alla famiglia De Santis. E' stato effettuato anche un sequestro di un immobile adibito ad uffici di oltre 500 metri quadri che si trova nella centralissima piazza Amendola di Nocera Inferiore del valore di oltre 700 mila euro. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica, Roberto Lenza, hanno consentito attraverso un minuzioso lavoro di ricostruzione delle vicende di oltre 20 società, tutte amministrate formalmente da prestanome, tra le quali l'Astuto di Avellino, di dimostrare che il ruolo di effettivo titolare era svolto da Fernando De Santis, il quale attraverso un sistema di soggetti schermo tentava di sottrarsi ad eventuali addebiti. L'operazione Ipervigile ha consentito di accertare che il metodo adottato dalla famiglia De Santis era il seguente, le cariche societarie venivano intestate a dipendenti o consulenti delle società del gruppo De Santis, i quali nella maggioranza dei casi erano intimiditi e costretti ad accettare quanto proposto per conservare il posto di lavoro. Non versavano alcuna contribuzione previdenziale e assistenziale né tantomeno i tributi delle società fino a portarle al fallimento. Le fiamme gialle di Salerno hanno potuto constatare che anche l'Astuto era amministrata solo apparentemente, sin dalla sua costituzione, dalle cosiddette teste di legno mentre la gestione reale ed effettiva della società era invece da ricondursi alla famiglia De Santis, operante da decenni nel settore della vigilanza. A seguito degli accertamenti è stato rilevato che non sono mai state prodotte e consegnate al curatore fallimentare le prescritte scritture contabili al fine di non consentire agli organi del fallimento la ricostruzione delle vicende imprenditoriali con specifico riferimento al periodo cronologico antecedente alla dichiarazione di fallimento. La Guardia di Finanza di Napoli ha invece individuato e sequestrato, denunciando anche una persona, a Striano, un laboratorio clandestino in cui sei immigrati clandestini nel nostro paese lavoravano per la realizzazione di capi di abbigliamento. Il responsabile dell'attività illecita è un bengalese di 59 anni con regolare permesso di soggiorno che è stato denunciato. Sequestrate anche tutte le macchine per poter realizzare questi capi di abbigliamento. Mentre invece ad Eboli i carabinieri hanno arrestato una coppia, un pregiudicato, Raffaele Augusto di 53 anni e la moglie, una donna di 29 anni, sorpresi dai carabinieri davanti a un bar di bellizzi mentre spacciavano droga. La donna aveva addosso 2 grammi di eroina e 2 di cocaina divise in dosi. Una successiva perquisizione nell'abitazione dei due in una zona rurale di Eboli ha consentito di scoprire altri 14 grammi di eroina, 4 grammi di cocaina e strumenti per il confezionamento delle dosi di droga. A Giffoni Vallepiani invece gli uomini della compagnia dei carabinieri di Battipaglia hanno arrestato il pregiudicato Vito Rizzo di 39 anni per aver violato diverse volte le numerose prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari. I militari hanno potuto accertare che l'uomo condannato lo scorso anno per un furto aggravato si era allontanato da casa in diverse occasioni, ora è in carcere. Affrontiamo un altro argomento, parliamo di inquinamento, in questo caso parliamo della presenza dei pesticidi nelle acque. È un allarme che è arrivato anche in Parlamento con una interrogazione parlamentare. Vediamo. La Campania è una delle cinque regioni che non ha fornito all'ISPRA i dati delle acque per la redazione del piano annuale sui pesticidi presenti nelle acque italiane. La Campania è una delle regioni che manca nel rapporto nazionale sui pesticidi nelle acque perché l'ARPAC non ha fornito i dati come invece avrebbe dovuto, limitandosi ad inviare i dati relativi soltanto al 2013, tralasciando il 2014 e riguardanti solo le acque superficiali e non anche quelle sotterranee. E su questo allarme il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione al governatore della Campania ma anche ai ministri competenti per evidenziare la gravità dell'omissione regionale. Considerando che la Campania utilizza 8,5 kg di pesticidi a fronte di una media nazionale di 4,6 si legge. Questo ci suggerisce che nel 2014 in Campania la quantità di sostanze per ettaro di superficie agricola utilizzata è di gran lunga superiore alla media nazionale. Un dato di fatto sconcertante sottolineano i 5 Stelle, tanto più se si tiene conto che buona parte delle acque viene utilizzata per l'approvvigionamento idropotabile e per l'irrigazione. Ciò viene utilizzato per bere e per irrigare le coltivazioni, un quadro allarmante che nella sua incompletezza di fatto sottostima la reale situazione. Di questo ha parlato il ricercatore del CNR Rocco De Prisco, ospite della rubrica Focus. Sorprendentemente, diciamo, negli anni che si sono succeduti, dopo il 2013, l'area del Sarno è sparita dai fondi che dovevano essere impegnati in questo territorio per procedere alla bonifica. Quindi se qualcuno va a cliccare il rapporto ISPRA sulle acque superficiali e acque profonde per quanto riguarda i pesticidi, innanzitutto la regione Campania ha prodotto sulle acque superficiali un numero di prelievi ma molto, ma molto inferiore rispetto ad altre regioni. Noi abbiamo fatto circa 48 analisi, mentre altri rapporti si mette molto in evidenza l'assenza della regione Campania nel fornire i dati sulle acque sotterranie. Il Movimento 5 Stelle ha dunque chiesto iniziative per ridurre e regolamentare l'uso dei prodotti fitosanitari, fornire un quadro esaustivo dei laboratori accreditati da Accredia per le prove sugli agrofarmaci nella rete delle agenzie, assumere iniziative per modificare il piano nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, introducendo vincoli più stringenti per la riduzione dell'uso degli agrofarmaci. Questo argomento sarà approfondito al termine di questa edizione del telegiornale nel corso dell'appuntamento Focus e ne parlerà proprio il professore Rocco De Prisco. Continuiamo a parlare di inquinamento, questa volta parliamo più di inquinamento, parliamo di problemi idrografici perché anche il Presidente della Regione Campania, De Luca, sostiene che il progetto Grande Sarno va rivisto così come aveva già anticipato la Commissione Ambiente della Regione. Anche De Luca sostiene che il progetto Grande Sarno va rivisto, ad anticiparlo nei giorni scorsi era stata la Commissione Ambiente della Regione che aveva visionato tra l'altro anche il dossier presentato dal Comitato Gente del Sarno. Il Presidente della Campania durante la visita ad Angri il lunedì scorso lo ha confermato. Con l'appendice più piccola della Solofrana e di tutto quello che è la Solofrana, noi dovremmo fare una bonifica radicale dell'ambiente. È una delle carte che dobbiamo giocarci per dare un'immagine di grande qualità urbana, di grande accoglienza, di grande riqualificazione, altrimenti nelle zone non riqualificate non viene un turista ma non viene neanche nessuno ad investire. Un riqualificatore non viene un turista ma non viene neanche nessuno ad investire. Un investitore viene se c'è un ambiente gradevole. La riqualificazione. Ragioneremo sul grande progetto Sarno. Io credo che alcune cose vanno modificate sulla base delle esigenze che porranno i sindaci. Credo che ci sia una grande opportunità di fare del Sarno e del corso del Sarno un asse di sviluppo straordinario. Dobbiamo arrivare dove era il porto di Pompei, dobbiamo arrivare a Torre, dobbiamo arrivare sul Golfo e poi risalire fino all'esorgente. Questo è un patrimonio straordinario. Ora una notizia di cronaca appena arrivata in redazione perché i carabinieri di Pagania hanno arrestato a Sant'Egido del Monte Albino due persone, una persona proveniente dal napoletano e un cittadino extracomunitario che stavano rubando un'autovettura appunto a Sant'Egido del Monte Albino, una BMW. I due hanno alla vista dei carabinieri, sono fuggiti, c'è stato un inseguimento, i due sono stati bloccati, una colluttazione e poi sono stati arrestati oltre al furto anche dopo la colluttazione appunto il reato perché si sono opposti all'arresto da parte dei carabinieri e sembra che negli ultimi giorni i furti di auto siano in netto aumento nella zona tra nell'agronocerino sarnese in particolare tra Pagani, Sant'Egidio ed Angri, tanto da spingere i carabinieri ad attivarsi maggiormente su questo fronte. Ieri addirittura è stato fermato un uomo, è stato arrestato perché stava rubando all'interno di un'autovettura l'autoradio, cose che avvenivano 15-20 anni fa quando gli autoradi nelle vetture erano praticamente quelli là che potevano essere smontati e questo conferma quanto ci sia in giro la necessità di approvvigionarsi anche di queste cose commettendo dei reati. Ora parliamo invece dei servizi sociali, come sapete il piano di zona che è quello dell'agronocerino sarnese, piano ambito S1, era estremamente grande, un territorio vastissimo con tanti comuni, si era creato praticamente un carrozzone che non funzionava, erogava non certo in maniera eccellente i servizi sociali, ora la regione ha deciso di spacchettare questo carrozzone e dividerlo in piani di zona in ambiti più piccoli. Ieri sera a Nocera Inferiore è stata costituita la prima società consortile che vede insieme i comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Rocca Piemonte e Castel San Giorgio, i particolari nel servizio. Piano di zona per i servizi sociali, si cambia, non più un territorio vasto come l'intero agronocerino sarnese, ma piccole entità con città, anche tre delle volte, per snellire le procedure ed evitare carrozzoni politici, alcune volte clientelari, oltre a tempi esagerati per assicurare i servizi importanti e fondamentali nel caso delle attività sociali. Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Rocca Piemonte e Castel San Giorgio hanno dato vita al piano di zona sub ambito 01. Ieri riunione al municipio della città capofila. Iniziare con le indicazioni che ci sono state suggerite dall'assessore Lucia Fortini, l'assessore regionale, quindi penso che sia la strada giusta da seguire, anche perché consente anche di avere servizi più rapidi, più veloci e quindi una programmazione migliore rispetto al vecchio metodo. Questa struttura giuridica ci consentirà di migliorare i servizi verso i cittadini e quindi rendere sia sotto una forma qualitativa ma anche sotto una forma di velocità di tutti i bisogni che i nostri cittadini ci richiedono in maniera giornaliera. Questo dovrebbe rendere più facile la gestione del piano di zona, dovrebbe evitare tutta una serie di equivoci che si sono creati in passato e quindi avere una gestione più lineare, più limpida e più trasparente, più efficiente. Quindi più efficiente. Un'azienda consortile per garantirsi i premiali. Questo ancora non è deciso. La riunione di oggi stabilirà quale sarà il futuro del piano di zona. Credo, ripeto perché ne ho preso coscienza pochi giorni fa, essendo arrivato il 5 maggio a Castel San Giorgio, per snellire credo le attività e la gestione. Quindi adesso dobbiamo un attimo stabilire quale forma utilizzare per gestire. C'è ovviamente una condivisione di indirizzi di massima, però ovviamente le sfaccettature sono tante. L'interesse che ha soprattutto il sindaco Giovanni Maria Cufano, per il quale io sono qui delegata oggi e che ci raggiungerà comunque tra poco, è quello di prevenire gli effetti della creazione di nuovi carrozzoni, come li definisce lui, nuove strutture che prevedano solamente ingombranti e personale, ma poco produttive. Al termine della riunione si è arrivata la costituzione dell'azienda speciale e consortile. Questa mattina il verbale sottoscritto dai rappresentanti delle quattro città è stato trasmesso alla Regione Campania. Successivamente si provvederà alla convocazione dell'Assemblea, a cui parteciperanno sindaci ed assessori di riferimento alle politiche sociali, che dovrà eleggere il Consiglio di amministrazione. Stabilito anche il gettone di presenza per i componenti dell'Assemblea, che è di 35 euro, stessa cifra erogata per le riunioni del Consiglio Comunale di Nocera Inferiore. Poi dovranno essere individuate le figure professionali, che dovranno mettere in campo la reale attività del piano di zona ristretto, dunque assunzioni di personale specializzato. A questo punto la domanda è scontata. Non c'è il rischio che le diverse società consortili che stanno nascendo diventino altri carrozzoni, magari più piccoli, oppure orticelli, in alcuni casi anche clientelari? Dalle prime indicazioni sembra che i costi saranno leggermente più alti rispetto ad oggi. Il vecchio piano di zona costa 1 milione e 100 mila euro l'anno. Nocera Inferiore partecipa ad esempio con 414 mila euro. Vedremo quali indicazioni arriveranno dalla regione, le diverse aziende e i concertili che nasceranno e quindi i relativi costi, con l'auspicio che i servizi verranno effettivamente erogati senza macinare soldi pubblici. Invece parliamo del mercato ortofrutticolo Pagani-Nocera. Anche questo ente si avvia a vivere una nuova era perché ora il destino è nelle mani dei sindaci delle due città Pagani e Nocera Inferiore. Ieri si è riunito intanto il Consiglio di amministrazione. Vediamo. Il futuro del mercato ortofrutticolo è sempre più legato alle amministrazioni comunali di Nocera Inferiore e Pagani. Dopo la cessione delle quote da parte della regione Campania alle due città, le strategie ora dovranno essere delineate dai sindaci. Lo ha detto il Presidente della struttura mercatale che ieri ha riunito il Consiglio di amministrazione per definire ed affrontare problemi in scadenza. La riunione si è tenuta ieri pomeriggio dopo il rinvio dei giorni scorsi provocati dalla protesta delle cooperative che lavorano all'interno del mercato. Non può passare un piano di sviluppo senza il loro apporto. Sono gli attori principali di questo territorio e a loro aspetta il compito di dettare le linee guida. Noi siamo ovviamente a disposizione di quello che ci dice la proprietà. Penso che oggi abbiamo un'occasione unica di tornare a recitare un ruolo importante sui mercati nazionali e questa responsabilità ora è in mano alla politica delle due città. Spero e mi auguro perché conoscendoli sono persone eccezionali e sappiano svolgere appieno il loro compito. Noi dobbiamo cercare in sintonia tutti quanti di rimare dalla stessa parte. Chiarito l'equivoco si va avanti per progettare il futuro. Oggi gettiamo le basi per costruire qualcosa di importante in questo mercato. Poi successivamente sarà presentato un piano di riorganizzazione del consorzio per cercare di attingere qualche finanziamento per riprendere e rilanciare tutta la struttura. La Conf Commercio Provinciale ha anche una nuova giunta dopo l'elezione del Consiglio Direttivo e la nomina del Presidente Giovanni Marone. Questa mattina è stato nominato anche l'esecutivo che guiderà l'associazione di categoria per il prossimo quinquennio. Alfonso Cantarella è il nuovo Vice Presidente. Vediamo. Dopo l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, la Conf Commercio Imprese per l'Italia della Provincia di Salerno, presieduta dal Presidente Giovanni Marone, ha anche una nuova giunta esecutiva che guiderà l'associazione nel prossimo quinquennio. Alfonso Cantarella è il nuovo Vice Presidente Provinciale, votato all'unanimità. Con lui in giunta anche il Presidente di Conf Commercio Pagani Luigi Amendola, Sabatino Senatore e Presidente della Federazione Moda Italia, Alfonso Amoroso, Presidente degli Stabilimenti Balneari, Paolo Ferro, Presidente della Conf Commercio di Ponte Cagnano e Giuseppe Venturiello, Presidente dell'Asse Prim, la Federazione dei Servizi Professionali alle Imprese. Si completa così la squadra di governo della più grande rappresentanza di categoria nei settori del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Salerno. Alfonso Cantarella ha ringraziato i colleghi presenti di federazioni e associazioni territoriali per il prestigioso incarico conferito gli che lo porta ad essere il collaboratore più stretto del Presidente Marone, nella gestione dell'attività e della rappresentanza del vasto territorio della provincia di Salerno. Mi accingo a svolgere l'incarico di Vice Presidente Vicario, ha dichiarato, con grande entusiasmo e grande senso di responsabilità. So che in questo ruolo dovrò rappresentare e coadiuvare il Presidente Provinciale Marone nel raggiungimento delle aspettative ed a tutela degli interessi delle attività produttive di tutta la provincia di Salerno. Devo un grande riconoscimento a Confcommercio Salerno, ha concluso quello di aver saputo risvegliare in me la voglia mai sopita di lavorare e battermi per le imprese economiche in un clima di cordialità ed amicizia. Particolare soddisfazione è stata poi espressa dal Presidente Provinciale Giovanni Marone al termine dei lavori del Consiglio che ha evidenziato il clima di grande serenità ed amicizia che ha contraddistinto tutta la fase elettorale. Adesso ci aspetta un lavoro molto duro, ha affermato, ma sicuramente stimolante in rappresentanza delle imprese salernitane. Il mio ringraziamento va ai colleghi, componenti di Giunta e al Vicepresidente Vicario che con me condivideranno questo percorso senza farmi mancare in nessun momento il loro prezioso sostegno. Parlare di commercio andiamo a Sarno, parliamo dei commercianti senza posto fisso, degli ambulanti perché l'amministrazione comunale di Sarno ha approvato delle tariffe COSAP agevolate per i commercianti ambulanti. In pratica il provvedimento nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali vigenti e dei regolamenti comunali prevede per i commercianti ambulanti spuntisti senza assegnazione di posto fisso la possibilità di acquistare almeno 20 o più ingressi giornalieri ai mercati rionali denominati carni di ingressi da pagare anticipatamente a ritiro. Con questo atto deliberativo ha spiegato il Vice Sindaco Ferrentino, l'amministrazione Canfora intende favorire lo sviluppo di quanti esercenti il commercio ambulante vogliono promuovere le loro attività nelle aree mercatali del nostro comune. Restiamo a Sarno, però parliamo di latino, una materia per molti ostica ma che comunque rappresenta per molti studenti, ha rappresentato e rappresenta ancora oggi quello di comprendere grazie anche al greco di comprendere l'etimologia delle nostre parole. Si torna a parlare del latino anche grazie ad un libro che è stato realizzato, scritto dai docenti e dagli studenti dell'Istituto Tito Lucrezio Caro di Sarno. Lo vediamo. Altro che lingua morta, studiare il latino può diventare piacevole, come dimostra il libro Ailac Latin Loqui che ha coinvolto nella sua realizzazione 13 docenti e quasi 200 studenti dell'Istituto Tito Lucrezio Caro di Sarno. Il volume raccoglie scenette di vita quotidiana, vignette, recensioni cinematografiche, articoli di cronaca e di sport ed ancora passi della divina commedia, proverbi e canzoni napoletane, tutti rigorosamente nella lingua della Roma classica. Presente alla conferenza stampa di presentazione, la presidente del Consiglio Comunale Maria Rosaria Liberti, la preside dell'Istituto Giuseppe Vastola ed il provveditore agli studi di Salerno Renato Pagliara. Siamo docenti del liceo classico scientifico e linguistico Tito Lucrezio Caro e abbiamo lanciato una sfida, una sfida innanzitutto a noi stessi, cioè dimostrare che è possibile insegnare e imparare in modo chiaro, semplice, lineare, addirittura piacevole il latino. E provocatoriamente quasi abbiamo scelto un titolo mescolato, mezzo in inglese e mezzo in latino, I like da una parte, latino e lo qui dall'altra, perché riteniamo che l'inglese che per certi versi ha preso il posto del latino di una volta, oggi viceversa può servire a veicolare il latino. Noi avevamo coltivato questo sogno da molto tempo, speriamo di essere arrivati tra i primi, anni, sicuramente altri, probabilmente in futuro potranno anche fare meglio di noi, ma è importante per noi avere lanciato questa sfida, una sfida, ripeto, a cui partecipano 13 docenti, 200 studenti che hanno scritto una serie di testi variegatissimi in latino, per cui noi parliamo di un latino 3.0, un latino che è fondato sulla mescolanza, tutti i testi che sono presenti in questo libro variano dalle scenette di vita quotidiana, quelle di vita scolastica, alle recensioni cinematografiche, alla trascrizione in latino di brani di Dante, addirittura al far sentire una partita in lingua latina. Certo non è facile tradurre le canzoni di Pino Daniele in latino, ma i ragazzi di Sarno ce l'hanno messa tutta, ora invece andiamo ad Amalfi perché il mare blu di Amalfi si prepara ad accogliere i quattro galeoni delle antiche repubbliche marinare che tornano a solcare il Mediterraneo per la 61esima edizione della prestigiosa regata in programma il prossimo 12 giugno. Ad Amalfi si rinnoverà la sfida remiera nata nel 1955 con l'intento di rinsaldare e celebrare il legame tra quattro straordinarie realtà nazionali nel segno di un comune glorioso passato. Per la sedicesima volta dunque nella storia della regata storica Amalfi ospiterà le rivali Pisa, Genova e Venezia. Ed ora un altro servizio, parliamo, anzi meglio vediamo prima questa notizia perché sabato prossimo dalle ore 21 presso il complesso monumentale del convento di Sant'Antonio a Nocere Inferiore l'Associazione Centro Turistico Giovanile Nocria in occasione dell'evento nazionale Una Notte al Museo offrirà ai visitatori un'occasione unica per conoscere il patrimonio di uno dei musei più importanti dell'agro con una visita che avrà come filo conduttore il buio della notte e la luce dell'arte, il tutto corredato da un buon tè. La Pinacoteca di Sant'Antonio è un museo ecclesiastico che conserva opere d'arte con una stretta connotazione territoriale, i dipinti e le sculture esposte racchiudono un arco cronologico che va dal 400 all'800, sintomo della grande importanza che la città ha rivestito in quei secoli. L'evento terminerà alle 24 e l'ultimo ingresso sarà alle ore 23 e 30. Dal peccato alla corruzione, seguendo la morale di Alfonso Maria Deliguori che prima di diventare santo fu un noto avvocato di Napoli. Il tema trattato in una tavola rotonda promossa a Pagani dall'Associazione giuridica Alfonsiana. Abbiamo servizio. Dal peccato alla corruzione. Il convegno ha visto i saluti del padre superiore, padre Luciano Panella, ma ha visto un simpatico intervento come è solito di padre Paolo Saturno, il quale ha spiegato dalla Bibbia il peccato, la corruzione, ma lo ha spiegato in maniera simpatica, col sorriso sulle labbra e con la verba che è solita di padre Paolo. La descrizione del fatto storico della causa di Sant'Alfonso che perde e poi diventa d'avvocato prete e poi la riflessione che nel 29 gennaio scorso il Papa tenne nella cappella di Santa Marta sul tema dal peccato alla corruzione. Partendo dal peccato di Davide che vede questa donna, Betisabbea, si innamora di lei purtroppo ci sta, nasce un figlio o meglio lei dice che è incinta, lui in qualche modo la vuole salvare perché la legge mosaica chiedeva la lapidazione per questo, alla fine si perde e condanna in effetti a morte il marito che si è difiutato, Uria, di andare a stare a casa della moglie. Con lei nell'intento di Davide era di imbrogliare un po' le carte. In realtà Davide perde il suo equilibrio e al peccato di lussuria al quale si è aggiunto quello di adulterio aggiunge anche quello di omicidio. Il Papa dice ecco dal potere, Davide si è ormai consolidato, non è più il ragazzo buono, fedele a Dio, è il re che si bea del suo regno e si permette anche di andare oltre, di fare a meno di Dio e dal peccato ha fatto appunto e passata alla corruzione. La corruzione è già peccato ecco perché dicevamo ha una duplice dimensione, una dimensione giuridica e una dimensione spirituale e il re è contestualmente anche peccatore. La legge stessa come anche tutti i suoi esponenti si rende conto dei limiti della norma, dei limiti del sistema giustizia ecco perché cerca di spingere anche in altre direzioni, non solo quelle penali e sanzionatorie ma anche quelle di carattere premiale o per dirla con gli anglosassoni di moral suasion, di persuasione morale. Un'altra notizia, sabato prossimo, 21 maggio, Nocera Inferiore torna ad essere la città della musica. La manifestazione rinviata sabato scorso per la pioggia è stata programmata per il prossimo fine settimana. L'evento giunto alla sua seconda edizione porta in città migliaia di persone attratte dalle piazze e dalle strade che si trasformano in teatri all'aperto proponendo musica e le sue diverse sfaccettature. Bene, ora noi ci fermiamo per alcuni minuti, abbiamo la pubblicità, poi parliamo di calcio. A dopo.